A nome dell'associazione, a nome di tutti noi presenti, vogliamo porgere le più sentite condogneanze ancora oggi alle fumighe presenti, perché penso sia stata una cosa veramente tragica. Adesso vi invitiamo a venire la sotto alla galleria perché vogliamo porgere, ricordarli anche su quel posto. Chi vuole seguirci con le macchine giustamente si andrà dalla panciata e adesso ci coordiniamo un pochettino. Grazie a tutti.